Quanti saranno alla fine gli Strohats, i nostri Nakama preferiti? Questo è un video che io avrei voluto registrare in realtà al termine del capitolo di settimana scorsa però, 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 a causa di forze maggiori lo sapete, non sono stato in grado di farle quindi mi prendo un attimo questi pochi minuti per contarvi una cosa della quale mi faceva piacere insomma, avere poi anche la vostra opinione, perché ormai, quando parliamo degli Strohats quindi quando parliamo di quello che è il nucleo classico, il nucleo teorico, chiamiamolo così dei nostri amichetti che fanno parte della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia tutti quanti a un certo punto ci chiediamo, ok, ma arrivati alla fine di One Piece quanti saranno effettivamente i membri della ciurma di Rufy? noi sappiamo che sin dall'inizio il nostro capitano col Cappello di Paglia voleva almeno almeno 10 membri della ciurma e, secondo me, alla fine di quello che sarà Wano Kuni credo che Yamato, il figlio mai nato, ma soprattutto lo gioco forza entreranno a far parte, assieme a Jimbe che ormai è il navigatore timoniere, scusate, in pianta stabile entreranno comunque a far parte, diciamo, di questo nucleo definitivo, totale tombale c'è però da dire una cosa, perché quando parliamo proprio di questo nucleo in realtà, dal time skip in poi, e questo anche lo stesso Eichiro Sensei in realtà ce l'aveva già detto, rispondendo proprio ad alcune domande simili ovvero ma quanti saranno alla fine Inakama di Rufy e Eichiro Sensei aveva detto non vi preoccupate, ce ne saranno talmente tanti che non ci sarà neanche più bisogno di tenere il conto io penso che alla fine, alla fin fine, tutti quelli con cui Rufy è entrato gioco forza a contatto tutti quelli con cui lui si è alleato, tutti quelli con cui lui ha scambiato poi le tazze della amicizia, della fratellanza o della sudditanza, chiamatele un po' come vi pare tutti quelli che hanno viaggiato a bordo della Going Merry o della Sunny tutto sommato sono già a pieno diritto degli Strohets ad onore ma volete forse dire ecco che Vivi non è un Astrohets, assolutamente lo è, lo sappiamo quelli si sono pure tatuati la X per dire non ti dimenticheremo mai fare sempre parte della nostra ciurma volete forse dirmi che Shiraoshi con il legame che ha con Rufy non faccia comunque parte della ciurma dei pirati di Cappello di Paglia ma io credo che ne faccia parte sia veramente molto molto importante volete dirmi ecco che Lo e tutti quelli della sua ciurma con tutto quello che hanno passato con Rufy non facciano parte della ciurma dei pirati di Rufy ad onore ma assolutamente sì, volete forse farmi credere che Kinemon, Kanjuro, Momonosuke e tutti i samurai che sono entrati a contatto con Rufy non siano amici di Rufy assolutamente, volete forse farmi intendere che la nostra amichetta Carrot che si è fatta anche una bella porzione di viaggio proprio come i samurai non sia a tutti gli effetti una Strohatz secondo me lo è e questa è una cosa interessante è una cosa di cui in realtà avevamo, abbiamo discusso spesso in live all'interno di video ci abbiamo anche dedicato un libricino che era il One Piece Journal ovvero sul pensiero riguardante proprio l'idea di famiglia perché quando noi pensiamo a Rufy, quando pensiamo alla sua ciurma quella è la sua vera famiglia, la sua famiglia sono i suoi nakama, sono i suoi amichetti e noi sappiamo che nel mondo di One Piece il sangue, il legame di sangue forse è una delle cose più terrificanti che ti possano capitare il sangue non si sceglie, la parentela non si sceglie, gli amici invece sì quindi in One Piece quasi sembra che Oda ci voglia dire subdolamente, in maniera quasi come se fosse una sorta di sotterfugio c'è, secondo me, come tematica anche se magari non esce sempre fuori, però è lì guarda che nella vita contano davvero solo due cose non farti influenzare da chi sei o da chi ti dice tu sei figlio di tu devi fare la tua strada e la strada la tracci grazie anche all'aiuto dei compagni che tu stesso ti scegli che tu stesso ti scegli, credo che sia veramente in dubbio e Rufy nel corso di tutta la sua storia si è scelto secondo me un numero incredibile di compagni, tra i più svariati che gli hanno permesso, concesso forse di avere un'idea dell'umanità anche ben precisa Rufy è molto altruista, non vuole sapere nulla se qualcuno ha compiuto ecco anche una malefatta nel passato per Rufy il passato non conta, conta il futuro e anche qui, anche qui, secondo me la critica a quella che potrebbe essere un approccio al proprio sangue, alla propria famiglia c'è, c'è, c'è tutto o dai legami di famiglia davvero sembra quasi che siano una cosa cattiva, una cosa brutta con questo non voglio dire che con i vostri familiari dovete avere rapporti terrificanti no, però nel mondo di One Piece sembra quasi che se tu sei figlio, fratello, padre o madre di qualcun altro prima o poi sei destinato a scontrarti con quel membro della tua famiglia pensate anche solo alla famiglia dei Monchi, alla famiglia di Rufy il povero Garpo, Marines, un figlio che è il peggior criminale del mondo perché fa parte dei revoluzionari e il figlio di suo figlio, suo nipote, che è un pirata addirittura uno dei pirati più pericolosi perché fa parte della nuova generazione oppure pensate al povero Sanji, a come suo padre Judge ha trattato lui e i suoi fratelli oppure pensate a come viene trattato tutto il parentato di Big Mom Big Mom utilizza persone, si sposa solamente per profitto personale e i figli servono solo per garantirle il potere non gliene frega nulla a Big Mom del fatto che i suoi figli siano sangue del suo sangue carne della sua carne lo vediamo spesso anche quando va in berserk alimentare se anche davanti a un figlio non gli interessa niente è in grado anche quasi di ucciderlo oppure se pensate anche alla nostra simpatica Pudding che viene davvero quasi un altro po' schifata da Big Mom che non vuole vedere il terzo occhio oppure pensate a Lola, Laura e Laura che proprio e Lola e Shiffon che vengono ripudiate perché non fanno quello che la mamma gli dice è veramente una situazione molto particolare molto particolare che però mi piace mi piace perché Oda spesso e volentieri poi ti fa vedere che l'estraneo l'estraneo non è qualcuno da temere se l'estraneo con te vuole essere gentile se l'estraneo con te vuole creare una famiglia a prescindere dal sangue forse crei quello che è ancora più del sangue un vincolo indissolubile pensate alla famiglia di Barba Bianca che trattava tutti come se fossero figli e i figli lo veneravano oppure pensate anche incredibilmente anche qui c'è una dicotomia incredibile alla famiglia di Doflamingo alla femmine di Doflamingo Doflamingo arriva a uccidere il fratello che lo ha tradito ma incredibilmente se anche alcuni membri della sua ciurma facessero qualcosa di male come per esempio Lo che più e più volte lo ha tradito stranamente Doflamingo sembra quasi dire dai torna con me non fa niente rispetto a quello che è stato tutto passato il posto per te c'è sempre dai sì sei stato uno stronzo però ti perdoniamo e i suoi veri fratelli sono i membri sono queste persone strane io la trovo davvero una visione molto 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 bella molto bella particolare diversa diversa che mi fa pensare che mi dà da pensare e quindi quando penso a quelli che saranno poi gli amichetti finali totali tombali di Rufy non posso fare altro che pensare che in realtà lo siano già tutti 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 indiscriminatamente indissolubilmente ma questo era il mio pensiero estemporaneo così volevo condividere forse quella che è una banalità ma lo dico stesso io non è un problema però ero curioso ero curioso di sapere la vostra e quindi fatemi sapere voi che ne pensate di questo aspetto di One Piece lasciandomi come al solito il sempre eterno commentino qui sotto su YouTube sulla mia fanpage Facebook sommobuta oppure lo sapete su Instagram se non siete su Instagram siete come sempre delle persone non male non malissimo non peggio ma davvero peggissime noi ci rivediamo qui per un prossimo video domani alle ore 14 un bacione un saluto e mi raccomando non litigate questa sera con i vostri fratelli con i vostri cugini con vostra madre con vostro padre solo perché sommobuta ha detto che la famiglia è il male e quindi magari adesso vi dovete creare la vostra gang unicamente per andare contro la vostra famiglia state tranquilli non vi preoccupate andrà tutto bene forse grazie a tutti